Un po' il crucio sì, perché comunque vorrei essere ricordati, come penso tutti i miei compagni, vogliamo essere ricordati per qualcosa di importante, non sicuramente per essere ricordati come una squadra peggiore della storia. Quindi è quello che vogliamo e dobbiamo magari cercare tutti insieme di ripartire da capo, di rialzerare tutto e di vedere se si riesce a raggiungere un obiettivo che è difficile da raggiungere, ma dobbiamo cercare di ottenerlo. Senti Matti, facendo veramente un parallelo velocissimo per la sua stagione, è stata più dura l'anno scorso quando ci fu la famosa contestazione, le fatte del Cavaliere, eccetera, o adesso? Mi sembra che non ci siano eventi traumatici, ma sembra che la situazione sia negativa. Io ho vissuto tre anni, tre anni di problematiche, quindi penso che siano stacchiti tra gli anni difficili, perché comunque il primo anno abbiamo visto la retrocessione, nel secondo una promozione scampata, però abbiamo avuto un giro d'andata con grandi problemi. Quest'anno è una squadra, secondo me, di grandissimo valore, però in questo momento non riusciamo a rendere come vorremmo. probabilmente in tutte e tre le stagioni c'è sempre, secondo me in tutte e tre stagioni difficili, stagioni nelle quali i momenti di difficoltà sono tanti, è ovvio che non è facile. Cioè dare una posizione non riuscirei a dare la posizione, perché sono tutte e tre stagioni con la... Il podio è ricco comunque, esatto. No, ma speri nella quarta. Speriamo. No, no, io spero che la terza sia magari... Troppo ideutica per migliorare la quarta. Sia positiva per... Di vedere anche il sole. Esatto, perché avete sempre il cielo coperto, vi sembra di essere a Manchester, insomma. Il cielo coperto con la pioggia è un po'... Intanto il sole fa bene. Andiamo ragazzi. Sì, grazie mille. Grazie. Grazie ragazzi. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie, salve, salve. Salve, salve. Ciao, ciao. Grazie, ciao. Ciao. Grazie Alberto. Salve, salve, salve. Salve, 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 salve.